Ehi, suoni proprio bene E' da molto tempo che suoni? Eh sì, tre giorni Ma allora conosci bene la musica? No, per niente, Music Partner Bontempi E' nuovo, una tastiera, due cassette, un metodo, i libri musicali E' fantastico Music Partner Non c'è un metodo per la voce Music Partner Bontempi Suonare non è mai stato così facile